Siamo presso la sede di USB Taranto, in quel di Talsano. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Per quanto riguarda il piano industriale di ArcelorMittal, ancora lo stesso non è stato presentato, ma ci sono indiscrezioni, pressoché certe più che attendibili. Parliamo di 3.200 esuberi, 1.800 lavoratori di ILVA-INA-S non sarebbero riassorbiti, nessun ammodernamento, nessun intervento su AFO-5. E' ancora una richiesta allo Stato di 2 miliardi di euro e poi ancora altra riduzione di produzione per una soglia di 6 milioni di tonnellate di acciaio. Insomma, Rizzo, un piano, diciamocelo, di lacrime e sangue, al che viene il sospetto che ArcelorMittal stia creando tutti i presupposti per rompere. Ma più che un sospetto c'è la certezza dall'inizio, non lo diciamo da due anni. Non ha fatto nulla per mantenere gli impegni e ha sempre fatto tutto per mettere in risalto la volontà poi alla fine di abbandonare facendo i danni in una peggior maniera. Sono le stesse cose, tra l'altro, che abbiamo ribadito anche a Patuanelli il 5 marzo, quando ci siamo incontrati. Il piano ufficialmente non lo conosciamo, alcune descrizioni giornalistiche che sono uscite parlano di un numero di esuberi iniziali di 3 mila che poi verrebbero aumentati a 4 mila. E arriveremo a quel discorso dei 5 mila, più o meno? No, andiamo addirittura sotto rispetto ai 5 mila perché la forza lavoro attuale sono 8 mila e due, quindi con un taglio della forza lavoro attuale di circa 4 mila, arriveremo a 4 mila, 200, 4 mila e 500 persone. Si arriverebbe dai 10.700 lavoratori a una basse di 7 mila e 5? 7 mila e 5. In più ci sarebbe l'annullamento della garanzia prevista nell'accordo del 6 settembre per i lavoratori 1.800 di Ilva in AS e ancora in più, mi viene un po' da riedere nel dirlo, addirittura chiedono anche i soldi pubblici. Chiedono 200 milioni di euro a fondo perduto per la questione Covid-19, 600 milioni di prestito con garanzia dello Stato. E se ho capito bene, circola la notizia che stanno chiedendo anche la gestione del miliardo di euro, se questo è stato ai Riva, che è in capo all'amministrazione straordinaria. Quindi il senso è datemi un paio di miliardi di euro che vi licenzio altre 4 mila, 5 mila persone a Taranto. Prima era la crisi del mercato, poi lo scudo penale, poi il Covid, insomma ogni occasione buona per far sì che il rapporto si rompa e se ne vadano. Sì, la cosa preoccupante è che, magrado tutto questo, il governo oggi continua, come dire, o almeno una parte di governo, perché tra le altre cose che abbiamo capito pare che ci siano, come dire, due linee all'interno del governo. C'è chi sostiene che bisogna andare avanti con Arcelor, c'è chi invece in maniera più pronunciata, come dire, come Patoanelli, inizia a far capire che si può anche fare a meno di Arcelor. È grave, io lo dico in tutta onestà, che si continua a pensare di tenere al tavolo un soggetto che di serio non ha assolutamente nulla, che a Taranto ha combinato il peggio del peggio, che ha ridotto, ha schiavizzato, perché quello è il risultato dei due anni di Arcelor a Taranto, dell'anno e mezzo di Arcelor a Taranto, i dipendenti di quella fabbrica, ha maltrattato i dipendenti di quella fabbrica, i dipendenti dell'appalto, lo voglio ribadire, ancora oggi abbiamo decine di aziende d'appalto che non possono pagare gli stipendi a causa dell'atteggiamento di Arcelor Mittal. È una situazione, come dire, assurda che si è venuta a creare, è una situazione che secondo noi si risolve solamente in una maniera. Ecco Rizzo, vediamo un po' la vostra posizione rispetto a quella di FIM, FIOM e WILM. Una diversa posizione, una spaccatura anche all'interno del Consiglio di Fabbrica? Senti, in tutta onestà io non so se c'è una spaccatura in Consiglio di Fabbrica, almeno noi il Consiglio di Fabbrica non l'abbiamo né spaccato né rotto, siamo stati chiari dall'inizio, noi abbiamo una posizione che è chiarissima, tra l'altro abbiamo, secondo me in maniera molto molto responsabile, visto i drammatici momenti che stiamo vivendo, abbiamo detto a tutti, non solo le organizzazioni sindacali, ma anche a tutti quei soggetti, come dire, che la pensano in maniera diversa rispetto a noi, che il punto in comune oggi dovrebbe essere, ma andiamo via Arcelor, nel rispetto delle posizioni di chiunque. Io credo che se incominciamo a ragionare su dove arriviamo, dove atterriamo, non ce ne usciamo più, perché ci saranno quelli come noi che diranno dobbiamo fare l'accordo di programma per la riconversione economica, ci saranno quelli che ti diranno chiusura subito, ci saranno quelli che ti diranno ambientalizzazione. L'unico punto in comune che potevamo trovare tutti quanti, a difesa anche del nostro territorio, degli interessi legati alla salute e legati all'economia del nostro territorio, come dire, è la questione Arcelor, quindi l'allontanamento di questi soggetti e dei manager che gestiscono per conto di Arcelor la fabbrica. Noi l'abbiamo detto in maniera chiara, l'abbiamo scritto, abbiamo anche scioperato, noi Arcelor non lo vogliamo e poi lo dico in tutta onestà, non so perché gli altri hanno deciso di perseguire un'altra strada, quella del consiglio di fabbrica unitario fra i confederali, quindi tenendo fuori gli altri, però ecco io non mi faccio la testa, noi sappiamo che cosa dobbiamo fare, andiamo dritti per la nostra strada. Ecco, ancora una volta emerge questa situazione di impunità di cui gode, togliamo il condizionale Arcelor Mittal perché può fare i comodacci propri, senza problemi. La fabbrica sta letteralmente crollando a pezzi, quello che è accaduto l'altro giorno al Carroponte penso che sia la prova provata di una realtà, di uno stabilimento che è stato abbandonato a se stesso, che è in completa decozione e quindi oltre ai rischi enormi alla situazione ambientale esterna, c'è una situazione paradossalmente ancora più pericolosa per chi lavora all'interno. Per 30 e 31 non è accaduta una tragedia. Quella fabbrica un colabrudo, questa è la verità, non lo è diventata oggi, diciamo c'è stato un peggioramento drastico nella gestione da parte di Arcelor Mittal. Oggi probabilmente col senno di poi lo denunciamo tutti, lo voglio ricordare, fino all'altra mattina lo dicevamo solo noi, però questo non serve per fare polemica, serve per dire che la condizione non è una condizione accettabile. Ed è chiaro che ogni giorno passa e più continua la gestione, il modello di gestione di Arcelor, che è un modello di gestione di rottura, cioè teso come dire a non mettere al posto gli impianti, a non mettere in sicurezza, a giocare con la vita delle persone a 360 gradi, perché lo voglio ricordare, sono successe tante cose in questi 18 mesi, dalla questione dei lavoratori in Venaes, passando per licenziamenti facili, tra l'altro anche lì il governo, Patoanella, Catalfo hanno chiesto chiarezza, ma nessun chiarimento è stato fatto con l'azienda con cui tra l'altro non ci sono praticamente più relazioni. Quindi un modus operandi che rischia di peggiorare ogni giorno di più quella condizione e si rischia veramente di avere altre tragedie come quelle di Cosimo Massaro l'anno scorso. E in questa situazione, in questo contesto, Arcelor Mittal esclude il rifacimento di AFO 5. Ma la questione del rifacimento, guarda, in realtà Arcelor sta riproponendo lo stesso modello, con la differenza che l'abbiamo già provato, sta facendo, sta tentando di fare delle promesse, stavolta però butta giù la maschera perché l'altra volta era lei che doveva fare i 4 miliardi di investimenti che qua la politica nazionale si è riempita la bocca, io ricordo alcuni politici di grido, anche ex ministri, l'investitore da 4 miliardi di euro sfido a dire dove hanno speso non 4 miliardi di euro, o un milione di euro, perché su quello, come dire, io rispetto all'insegna che è cambiata lì dentro non ho visto assolutamente nulla di nuovo, è cambiata solamente la scritta, anzi la condizione è peggiorata. E se tu vieni dopo l'amministrazione straordinaria, quindi la gestione commissariale, che apre chiudo parentesi, non aveva il compito politico di risollevare lo stabilimento, ma aveva il compito di venderlo, la cosa è grave, perché vuol dire che tu hai fatto molto meno di quanto è riuscita a farla come una gestione commissariale. Quindi c'era una volontà occulta dall'inizio di sottoscrivere un accordo, probabilmente di eliminare dal mercato un concorrente diretto, tutto ciò però buttando la disperazione in una comunità che purtroppo, come dire, in questo momento non è preparata ad affrontare situazioni di questo tipo. E qui c'è il grande handicap politico. Il territorio tarantino, le istituzioni tarantine rappresentative del territorio, non so, sembrano ammutolite, non dico intimorite, ma quantomeno non hanno più la forza di reagire. Chiaramente noi come cittadini, voi come sindacato, i lavoratori si sentono in balia di se stessi. Senti, il problema non sono le istituzioni locali, io la dico così. Al netto del fatto che Taranto è una città spaccata, frastagliata, è complicata anche fare la descrizione di come è fatta Taranto. Perché poi se prendiamo riferimento a Genova, ti accorgi delle enormi differenze. A Genova c'è il sindacato compatto, la politica che va dietro i lavoratori. C'è una serie di situazioni che sono diverse rispetto a Taranto. Quindi già di per sé, come dire, probabilmente con un fatto culturale a Taranto abbiamo una serie di limiti che guardano un po' a tutti. In più c'è un atteggiamento, secondo me, della politica nazionale che è completamente sbagliato rispetto a Taranto, che ha deciso di sacrificare Taranto e i tarantini, lì sì, in favore del PIL nazionale. Perché poi in realtà una delle tante cose che non si capisce, ecco la dico così in maniera volgare, da un lato dovremmo avere gli impianti a caldo che inquinano, dall'altro abbiamo tutta l'area a freddo di Taranto che sta tutta in cassa integrazione. C'è una cosa assorda, no? Cioè ci dicono non possiamo spegnere l'Iafo perché qui succede la tragedia, però poi tutto il pezzo a freddo che equivale a metà stabilimento, ci stanno 5.000 persone, ce l'abbiamo praticamente a casa ferma in cassa integrazione. C'è quasi come se fosse operata una scelta secondo la quale Taranto e i tarantini devono subire queste circostanze, tra l'altro manco lavorando più, cioè è brutto da dire, ma uno dice vabbò c'avevo un inquinamento, c'ho un sacco di lavoro, sto compensando, cioè io la ritengo sbagliata come logica. Però almeno avrebbe una sua logica, un suo essere. Cioè qui invece ti stanno chiedendo di portare avanti un morto che cammina, perché lo stabilimento è morto, e ti dicono pure devi perdere il lavoro, devi vivere con la cassa integrazione. E abbiamo fatto una città di cassa integrati e disoccupati, perché questa è diventata Taranto. In questo quadro ritorniamo all'atteggiamento accondiscendente nei confronti di Arcelor Mittal. Pato Anelli dice dobbiamo contemperare la solita musica, la solita tiritera, ambiente e lavoro. Lo dicono pure le pietre, ma con Arcelor Mittal c'è poco da contemperare. E addirittura lo scienziato di Calenda, quello che ci ha portato Arcelor Mittal, ci dice dobbiamo trattare con Arcelor Mittal. Ma con chi dobbiamo trattare? Con chi vuole rompere? Con chi ha calpestato la dignità dei tarantini e dei lavoratori? Vabbè, questa è una delle chicche della politica nazionale. Noi dovremmo trattare con un soggetto che in sede ministeriale, quindi di fronte ai vertici del governo, ha presi impegni, li ha sottoscritti, non li ha mantenuti, si è preso gioco di tutto e di tutti. Tra l'altro parliamo di una fabbrica, lo voglio ricordare a me stesso, che non produce solo acciaio, ma produce anche tantissimo inquinamento. Tumori e morti? Sulla salute delle persone. E quindi oggi c'è qualcuno che ha ancora il coraggio di dire che dobbiamo trattare con Mittal. Mittal non tratta. Mittal che non fa entrare i commissari. Mittal non tratta, Mittal ricatta. Allora, se c'è una parte della politica, se c'è Calenda che vuole trattare con Mittal, si faccia una trattativa, si prenda l'ILVA, se la impacchetti e se la porti sotto casa. La dico così. Si faccia fare lui, scusami la volgarità, ma il servizietto da Mittal. Perché a Taranto ce ne abbiamo le scatole piene. Il governo oggi, rispetto all'emergenza, rispetto al fatto che abbiamo il dramma sanitario da un lato e si rischia di fare spotere il dramma occupazionale che ha le porte, perché noi siamo vicinissimi a tutto ciò, dovrebbe semplicemente fare un'operazione. Mettere in sicurezza quella fabbrica, cacciando via Arcelor Mittal, ti prende una fase di transizione, per mettere in sicurezza la fabbrica, quindi nazionalizzandola, e lì devi aprire il ragionamento sul territorio per l'accordo di programma. Perché il problema è anche questo. Taranto, il futuro di Taranto, qual è? Qual è il futuro dei nostri figli? Noi ancora pensiamo che quella fabbrica, in quelle condizioni, possa dare futuro, possa dare lavoro per i prossimi 15-20 anni. Lo sappiamo tutti, ormai siamo arrivati. Quindi bisogna avere le spalle larghe, avere il coraggio di fare delle scelte che si sono fatte in tanti altri luoghi, magari nel caso di Batuanelli, che è stato l'artefice dell'accordo di Trieste, avere il coraggio. So che è complicato, so che è difficile, perché parliamo di numeri completamente diversi, ma almeno iniziare. Cioè aprire un ragionamento e iniziare a dare la possibilità a Taranto di tornare a respirare e di non essere economicamente dipendente da Arso. Perché l'altra cosa che si sottovaluta domani, quando quello deciderà di non pagare gli stipendi dei diretti, come sta facendo già con l'appalto, noi avremo praticamente una città che per una buona metà non avrà più reddito. Cioè è paradossale questa storia, no? È un po' quello che sta accadendo a tutte le aziende d'appalto Ilva, che negli ultimi anni sono fallite o rischiano di fallire, o ai dipendenti dell'appalto Ilva. Ci sono centinaia e centinaia di dipendenti che prendono stipendi miseri e vengono pagati quando arrivano i bonifici di Arso. Quindi una condizione di estremo ricatto, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista dell'economia. Voi come USB i prossimi passi, i prossimi interventi, le prossime manifestazioni che farete? Senti, io ti dico questo. Io credo che da qui, a massimo 7-8 giorni, non posso dire altro, per noi la storia è chiusa. Mi viene da dire che, purtroppo, il detto dice se non si rompe, non sta giusto. Io credo che sia arrivato il momento di rompere, perché se la politica, come di nazionale... La polmonite non si cura con l'aspirina, per capirci. Perfetto. Se la politica nazionale pensa di continuare a scaricare il peso delle proprie scelte sbagliate o della propria incapacità, perché, apri e chiudo parentesi, ci può essere anche questo, incapacità di avere progetti politici completamente differenti. Nella siderurgia, poi in campo nazionale, la cosa emblematica, Piombino, Last, Di Terni, Taranto, Genova, cioè abbiamo Trieste, abbiamo una condizione in cui non c'è un progetto, non c'è una linearità, cioè che ne facciamo della siderurgia? Siamo competitivi a livello europeo rispetto alle grandi fabbriche inquinanti come Ilva? Io penso di no. Cioè anche lì il governo dovrebbe avere il coraggio di fare delle scelte partendo dal presupposto che quelle scelte non possono, come dire, essere pagate dai lavoratori. Qui oggi il paradosso è che ci troviamo di fronte ad una parte, ripeto, ad una buona metà del governo, perché mi sembra che, da quanto abbiamo capito, è Gualtieri, quello che sostiene che bisogna ragionare e dare i soldi a Mittal, che dice, ma in grado tutto quello che hanno fatto diamo pure i soldi nostri per licenziare, quindi dovrò portare i soldi delle nostre tasse per continuare a massacrare i dipendenti e i cittadini di questa città, cioè il che sarebbe veramente paradossale. Quindi per noi la storia si deve chiudere, si deve chiudere velocemente, lo faremo nel giro di qualche giorno. Costi qualche costi, perché purtroppo a mali estremi, estremi di me. Sì, perché dopo che le avete tentate tutti, abbiamo scritto relazioni, abbiamo parlato, qui non c'è da dimostrare chi ha ragione e chi ha torto. Evidente. Le cose sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti, secondo me stanno sottovalutando tutto quello che le persone stanno vivendo in termini di emozioni e soprattutto probabilmente pensano, ecco, mi viene da dire che c'è qualcuno che pensa che i lavoratori sono come dei piccoli numeretti, non è così, c'è ognuno di noi ha famiglia, ognuno di noi ha la dignità dell'essere umano e del lavoratore. C'è chiaro, c'è gente che si vede buttata in mezzo alla strada la mattina alla sera, c'è gente che a livello psicologico sta avendo grossi problemi perché è chiaro che con questo atteggiamento strano, uso un termine quasi voluto, c'è alcune delle cose che Arcelor fa, sono quasi voluto è facile anche per vedere tu pensi alla cosa peggiore e avviene quindi ho un modus operandi proprio che mira probabilmente a far scoppiare il casino dicevi tu all'inizio che vuole Arcelor? probabilmente esattamente quello che gli dobbiamo dare e poi nella storia c'è sempre chi prende l'iniziativa e fa le azioni c'è chi invece guarderà e continuerà a parlare c'è chi ha gli attributi e c'è chi non ce li ha a noi tocca in questo momento essere il capo ispiratore perché vanno ricercando quello e purtroppo ci scarificheremo per il bene di tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti